Il governatore della regione toscana Enrico Rossi è indagato, turbativa d'asta l'accusa contestata dalla procura di Firenze nell'ambito dell'inchiesta per la gara regionale per il trasporto pubblico locale, un bando da 4 miliardi per 11 anni vinto da Autolinea Toscana S.P.A. Il reato sarebbe contestato in relazione ad un'intervista rilasciata da Rossi nel novembre 2015, nella quale commentava l'aggiudicazione ad Autolinea nonostante la gara non fosse ancora terminata. Le indagini erano iniziate un anno fa a seguito di un esposto presentato dalla cooperativa Autotrasporti Pratese che fa parte di Mobit, il consorzio di imprese locali uscito sconfitto dalla gara e che da anni è impegnato in un lungo contenzioso legale contro l'assegnazione del servizio ad Autolinea Toscana. Il presidente Enrico Rossi in un lungo post su Facebook ha definito le accuse a suo carico infamanti e ridicole aggiungendo di attendere il momento giusto per procedere a querelare i calugnatori. Il governatore ha anche ricostruito l'intera vicenda postando il link dell'intervista da lui rilasciata. A volte ha scritto ricevere un avviso di garanzia è segno del fatto che si fanno cose importanti a favore dei cittadini e che si toccano interessi che non vogliono mettersi da parte ed accettare gli esiti di gare regolari e trasparenti. Questa associazione di imprese non solo ha strumentalmente usato la giustizia amministrativa perdendo regolarmente tutti i ricorsi facendo così ritardare il contratto con l'impresa vincente e quindi la partenza del servizio ma come ultimo colpo di coda per bloccare le regolari procedure ha fatto anche un esposto alla procura mettendo sotto accusa oltre a me l'intera commissione regionale e i dirigenti del settore mobilità. Con Rossi sono infatti indagate altre sei persone, due funzionari della regione e quattro componenti della commissione giudicante. Le accuse ipotizzate a vario titolo sono quelle di falso, abuso di ufficio, turbativa d'asta, induzione a promettere o dare utilità.